BMTA 2021, focus sul turismo archeologico subacqueo, citando lei nel suo intervento ha detto bisogna avere gli occhi rivolti alla storia dei nostri mari e delle nostre acque. Sì, per noi della UNESCO è molto importante di vedere più una presentazione del patrimonio culturale subacqueo in suo contesto, quando è un museo con un contesto archeologico che spiega la storia, che spiega tutto questo che è la importanza del patrimonio e non solamente questo oggetto secco che si vede nelle vitrine e che non è spiegato per niente e che in nostro opinione dà più un'incitazione alla cazza di tesoro perché si vede solamente l'importanza monetaria di un pezzo. Alla fine per il visitore è molto più interessante di vedere una storia, di vedere da dove veniva l'artefatto, perché che importanza aveva e tutto questo. Naturalmente è anche importante per noi la protezione del patrimonio culturale subacqueo in situ perché si è fatto questo errore molto troppo negli tempi passati che si ha preso delle cose, le ha posto in altro luogo e oggi si può vedere un obelisco egiziano a Parigi. Veramente è importante che anche si rispetta l'autenticità del sito, che si comprende che tutto il sito archeologico è importante e non solamente un artefatto che è di oro o di argento, ma anche il sito dove una cosa è successo è importante. Anche naturalmente si deve sempre vedere che è importante di conservare, di proteggere gli artefatti, il sito e quando si prende cose fuori dell'acqua è sempre pericoloso perché si deve assicurare la conservazione e di volta anche sono molto grandi. Per noi è un po' il sogno di avere un accesso veramente libero, grande e importante al patrimonio culturale subacqueo, di vedere che il pubblico può entusiasmarsi per questo patrimonio, può vederlo, può beneficiare responsabilmente senza prendere qualcosa, però è un patrimonio che è per la gente e non per solamente un'autorità, un archeologo. Gli archeologi lavorano, anche noi la UNESCO, lavoriamo per il beneficio del pubblico e questo è importante. In quest'ottica quest'anno si festeggiano i 20 anni dalla stipula della convenzione per il patrimonio dei beni archeologici subacquei. Sì, abbiamo 20 anni di questa grande convenzione che protegge il patrimonio subacqueo e possiamo dire che abbiamo già ottenuto molto. Le cose si hanno cambiato tantissimo, grazie anche, che posso parlare con voi, perché anche la prensa e le medie si sono veramente cambiati e si parla oggi molto di più della protezione del patrimonio che si parla di questo tesoro in oro. Naturalmente il patrimonio subacqueo è un tesoro, però è un tesoro culturale appartiene a noi tutti, anche se deve dire che non conosciamo ancora niente. Abbiamo fatto molto per formare gli archeologi negli ultimi anni, abbiamo cambiato le leggi, la UNESCO è stata veramente molto attiva in questa zona per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, però c'è ancora molto da fare. Oggi solamente cominciamo con la decada per le scienze oceaniche delle Nazioni Unite e si sa che del mare non si sa ancora che cosa, andiamo noi alla Luna, al Mars, però del mare c'erano già 12 persone sulla Luna e solamente 3, 4 a 10.000 metri sul mare. Grazie.